Si leva l'albettigia tutto rosa, il lago del piletto poi si indora, si specchia giù nel lago la cantina o là. Io farei un applauso pure a Gennaro che è bravissimo nel condurre i suoni e contemporaneamente anche le luci e se non ci fosse lui bisogna essere giù, scusate il termine di alzato. Grazie a tutti. 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 Vi vogliamo sorprendere di più. Perché. Vogliamo fare il laccio d'amore. Che diciamo in dialettica. Ma andrezzata. Andrezzata. Cioè praticamente noi. Tutte e sei. Sono sei coppie. e ci sono 12 figli di cui 6 azzurri che manderanno gli uomini e 6 uomini che manderanno le donne e quindi non giriamo in norma a questo palco, diciamo da ora fino a un certo punto, dopo di che io dirò con lui di uno solo, di due e tre sbagli, succede un bitch io ho usato questa parola di proposito perché? Perché tanti e tanti anni fa si usava a fare la prova d'amore perché si doveva sposare e allora praticamente le coppie che si dovevano sposare si promettevano eterno amore eccetera eccetera poi andavano a verificare se questo eterno amore si manteneva nel tempo e allora la mantenevo male boh, se vuole male si spiccia va tutto a posto il matrimonio questo è il significato all'ecorico e all'illaccio d'amore noi adesso tendiamo a districarlo lo spicciamo, se ci riuscimmo bene se non ci riusciamo, che volete può succedere, siamo sempre 12 capa ogni capa è chiusa a quel momento che sta a pensare va bene grazie a tutti 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 grazie a tutti